a lui avevo provato i miei anch'io li avrei portati in aereo perchè non ci sono mai stati non ci sono ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 ho cambiato microfono era da tanto che non utilizzavo il 3 dio e mi ho detto vabbè lo cambiamo oggi premessa sarò un video chiacchiere e massaggio le orecchie ma per chi si lamenta che parlo troppo e che questo non è proprio il video per te ma l'ultima parte di questo video gli ultimi 10 minuti saranno poco poco parlati quasi no talking quindi vi metto il minuto scritto qui e se proprio non vi piace il mio parlato andate qui oggi sono qui per il solito vecchio video aggiornamenti chiacchiere video in cui ascolti dimentichi tutto ciò che sta intorno mentre in questa bolla di relax e di cose frivole nulla di che e a me piace tanto sia fare che ascoltare soprattutto questa tipologia di video quindi spero possa piacere anche a te allora partiamo da una novità non so se si lo sentite piove e si sente la piazza perché sono nel nuovo studio e esattamente qui sopra ho una finestra sul soffitto e quindi piove sopra di me piove sopra di noi piove sopra di te quindi ci accompagnerà anche questo splendido sono della piazza che inaugura ufficialmente un pochino anche la stagione autonale che è l'umilia la stagione è più cosi di tutte cioè fresco cominciano le cose invernali bellissime tutto ciò appunto per dire che sono nel nuovo studio spero quello ufficiale ecco chi mi segue su instagram lo sa già mi trovate come chiara.smart ma per chi non mi seguisce molto molto male molto molto male perdono solo per chi non ha instagram va bene ma per chi ha instagram cosa aspetti chiara.smart ah anyway sono nel nuovo studio praticamente a casa nostra in realtà ne avremmo due piani ma questo piano l'ho affittato perchè è il mio studio è al piano cioè sopra al piano sopra a casa mia cioè qui sotto c'è il mio salotto e è un una sala molto grande in cui da quella parte lì dietro ho fatto ho messo un tavolo un divano tutto ciò che mi serve per starci e per lavorare e nel caso poter ospitare anche qualcuno per lavoro cioè se qualcuno può venire a lavorare qui con me e qui invece sono nella parte più bassa infatti in alcuni video avrete potuto vedere il soffitto in legno e questa stanza l'ho ricavata facendo un cartongesso da questa parte e qui dietro dietro lo sfondo nero c'è il cartongesso è un cartongesso un po' diciamo più ricercato perchè un po' più spesso è fatto con dei materiali isolanti purtroppo la stanza non è ancora isolata al meglio c'è più che si può perchè manca la porta e manca la porta perchè deve arrivare anche quella è una porta diciamo isolante più che altro nel senso che non dovrebbe passare nulla cioè non passa una striscia di aria non c'è nessuna non è non c'è non passa niente ecco quando la porta è chiusa non mi so spremere comunque ok tecnicamente dovrebbe arrivare ottubre forse metà ottubre vediamo speriamo e dopo vedremo se questa stanza sarà veramente insonorizzata o meno quando sarà tutto completo e di là vi farò il tour dello studio ma penso nel secondo canale nel canale che ero presa il secondo canale youtube non qui perchè mi sembra più adatto il secondo canale e però si vi faccio un attimo giusto vedere ma un niente vabbè qui c'è la luce vedete lì dovrebbe dovrebbe lì dovrebbe esserci una porta e qui e qui invece c'è l'altra parte della stanza e qui non so cosa vediate ma spero abbiate visto la la finestra di cui stavo parlando prima brevissimo tour e e niente non vedo l'ora di di farvi vedere di farvi vedere tutto non vedo l'ora soprattutto che arrivi la porta così finalmente riuscirò a salarmi il più umanamente possibile della tale caos e appunto sono molto contenta di avere finalmente uno spazio adeguato grande apposito e anche abbastanza isolato questo era un mio sogno un mio desiderio un mio progetto da tantissimo tempo avere un mio studio ma sapevo anche che avrei dovuto trovare il tempo giusto la pazienza giusta l'organizzazione giusta e da una persona che soffra un pochino di ansia avevo anche paura di comunque lavorarci mesi spendere tanti soldi e non ottenere una stanza insonorizzata io non lo so se l'ho ottenuta però sono anche un pochino più tranquilla per comunque ho almeno un mio spazio vedremo se sarà insonorizzata speriamo sicuramente sarà più silenziosa delle altre e comunque sicuramente comunque è più insonorizzata nell'altra stanza nonché più grande più organizzata insomma comunque metto un po' d'olio sulle mani comincio a fare un pochino ora ti massaggio perché fa la schiuma faccio malissimo al collo ma strano rado un po' di tempo dalla gomma al collo con il cuore con il cuore con il cuore Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 , Sì. 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 Sì.